Probabilmente la propagazione sta un po' migliorando, almeno qui in zona. Vi ho ascoltato un po' che fino a me in particolare è il mio reggioro vero che è abbastanza forte. Io c'entrò che è calato in zona, c'entrò 6-5-6 problemi, non ti ascoltavi. Un saluto a Eugenio dalla USA, stavo guardando qui su Correggio tra tutte le vostre stazioni, eccetera, eccetera. Bene, io vi do un grande saluto a tutti perché mi hanno chiamato e devo uscire. Vi ho fatto un piacere immenso, soltarvi, trovarvi e parlare con voi. Mi auguro di riascoltarvi ancora, non ci sono sempre, ma insomma ogni tanto vi presento i 40 metri in M. Buona buona Pasqua a tutti, è un presto di sentirci. Ripeto l'antenna, mi sembra che stava Andrea perché io vi sono segnato ora tutti i numeri perché se no abbiamo un filo. E... Sì, riprende Italia Whisky 5, Canada Italia. Benissimo, allora, buona Pasqua anche a te a famiglia, è stato un piacere ascoltarti. Comunque arrivi molto bene qui a Firenze senza nessun problema. Se non erro ho sentito Luciano io nel sottofondo, vorrei però vedere se è proprio lui che si è affacciato, quindi lasciamo un attimo di bianco per vedere se Italia 8KLL è in frequenza. A te il cambio Luciano, se sei te, ti passo subito il microfono. Andrea ciao, ci sono eh, ci sono i 8 KLL, arrivi un po' bassino però a te. Bene Luciano, in QSO ci sono diverse stazioni, fra cui Roberto e anche lo Stefano Italia KILLO ZERO Lima Radio Golf e anche Italia KILLO ZERO WGB. Quindi rimetto allo Stefano che ti, così ti può fare i saluti, da parte mia tantissimi auguri di buona Pasqua, se le condizioni di propagazione non ci consentono di proseguire il QSO, considerati comunque già augurato te e tutta la tua famiglia. Avanti Stefano, tornerai poi per il Roberto per salutare il grande Luciano da Mugnano. A te il cambio. Sì, questo è il, si torna Italia, KILLO ZERO WGB, bravo, ciao Luciano, ben risentito, arrivi ottimamente. La propagazione oggi ci assiste, saluto il 5KLL, per risentirci, buona Pasqua a te e tutta la tua famiglia. E' ben entrato anche a Italia 9, N, J, Eugenio. Bene Luciano, sono molto luce, non ci sentivamo. E questa è l'occasione giusta per poi farci gli apudi di buona Pasqua. Bene, allora io rimetto per Roberto come ha detto il buon Andrea, che poi rientrà per Eugenio. A te Ruperto, KILLO ZERO LRG, ha trasmesso Italia, KILLO ZERO WISKEY GOLF BRAVO. Io però avevo staccato un attimo, non perché deve essere in frequenza eccetera eccetera, mi sembra che ha detto che è entrato il primario di Mugnano. Buona Pasqua, buona Pasqua, buona Pasqua, molto piacere, vediamo se lo sento, ottimo. Io senz'altro vado lì per l'amico. Bene, ben sentito di nuovo, Gene. E chi ti volevo dire, la sezione toscana invece a me stanno un po' calando, è il segno che sta facendo male propagazione, speriamo bene. Considerare di saludati ovviamente fin da adesso, che poi venire che le sparite ha caic. A tuo Gene. Sì. Ho messo un attimo, 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 un attimo. Per quanto riguarda il Natale Vino, ma io speravo di sentirlo a questa ora, ma probabilmente non sarebbe impegnato, magari non sono un lavoro. Grazie a tutti. 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 A te il cambio da Italia Whiskey 5 c'è all'India, ritorna per Italia 8 KLL. A te il cambio Lusano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, che altro ascoltavo bene? Stefano, ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. a Paola sicuramente. Grazie a tutti.